Cari sorelle e fratelli all'ascolto, stiamo vivendo un periodo molto strano, un periodo che non avremmo mai pensato di vivere. Ci raccogliamo anche quest'oggi alla presenza del Signore, certi e certi che il suo regno non cessi mai, facendo a nostri i primi due versetti del Salmo 93. Il Signore regna, egli si è rivestito di maestà, il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi, tu esisti dall'eternità. In questo momento così complicato, o Signore, dacci la forza che ha il salmista, di vedere sempre, anche in momenti di forte difficoltà, la tua forza, la tua stabilità. Dacci la forza di non dimenticare mai che tu non ci abbandoni, che il tuo regno non cesserà mai. Amen. Proseguiamo il nostro culto con l'inno 25. Amore eterno, mia sovra di tu, oi che mi ha avvito, l'anno mio lamento, per il mio sospito e il mio consapevole, tutti i miei giorni doveva il Signore. leader maestà, del mio consapevole, parte dei miei giorni doveva il miglior e mondiali doveva andare fuori da 2 tigli e dei 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 suoi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.